Salve a tutti amici e benvenuti con questo nuovo video, io sono Savo Pimpos e oggi torniamo alla Domenica Horror con Five Night Sister Location, ovvero Five Night 5. L'altra volta Funtime Freddy mi ha ucciso, bastardo, e oggi siamo qua, ritorniamo nuovamente nella camera di controllo di tutte le stanze dove c'è Funtime Freddy che se non state attenti vi fa uno jumpscare che ve lo sognate la notte. Se vi siete persi lo scorso video vi invito ad andarla a guardare e vi farò vedere che lo jumpscare è veramente bellissimo, tra virgolette, bellissimo. Ok, mi mancano le ultime due stanze da connettere, quindi direi subito di continuare. Non mi farò lo jumpscare adesso perché ti prendo a testate Freddy, veramente. Come al solito prima assicuriamoci che Freddy non si veda praticamente, quindi che sia ritornato allo stage, clicchiamo su play audio, accediamo al computer e teniamo premuto il pulsantino per la connessione delle stanze fino a che sentiamo l'audio. Quando non sentiamo più l'audio stacchiamoci subito dal computer, altrimenti jumpscare assicurato. Quindi, ci sei? Freddy dove sei? Non lo vedo, quindi non vediamo Freddy, quindi play audio e subito connessione. Perfetto, l'audio è finito quindi ritorniamo qui. E così via, e così via fino a che non completiamo tutte le strada. Questa era. Everything is ok, come vedete l'audio finisce e noi ci stacchiamo dal computer, assolutamente. Dove sei Freddy? Ma ci sei? Dove sei? Non c'è, meglio così, non c'è. Ok, play audio subito. Non veni qui? Perché duri così poco? Eccoti, eccoti, Freddy, bastardo di Freddy. Eh, va, te ne allo stage, va. Vai, va. Perché dura così poco l'audio? Dai. Non c'è nessuno qui, te ne vai. Ai freddi, te ne vai. Everything is ok. Dai, adesso, via. Che è? Perché non si sente niente? Oh, mi sta prendendo in giro. L'ho attivato l'audio però. Ragazzi, questo gioco è un pochino... Ci sono un bel po' di bug. Eh, ma perché duri così poco? Ho riscontrato un po' di bug. Vattene. Eh, play audio, ma dov'è? Non sento niente. Vai, adesso. Everything is ok? Eh, dai, muoviti questo... 99, dai! Oh, 92, 92. Eh, dai, l'8% mi manca. Vai, l'8%. Via, adesso. Fatto, fatto, fatto. Bellissimo, ragazzi. Ok. No. No, di nuovo dal condotto di Balura. Devo passare, no? Quella mi ammazza ora. Balura, ti prego, non mi fare niente. Io non sento niente. Balura? Dove sei, Balura? Chi è? No. Vai, raggiungi sta porta. Fatto. Shit complete! Bellissimo. Ragazzi, notte 2 completata. Peccato che non ci sono i popcorn, però. Mi aspettavo questo momento per mangiarmi i popcorn. Enjoy some time, ma tom. Vabbè, niente popcorn, ragazzi. Facciamoci una ragione. E come avete potuto notare, rispetto alla versione per PC, non c'era, in questa sezione che abbiamo fatto, il livello di pericolosità della situazione. Ma non ce n'è bisogno, perché come vi ho spiegato io, riuscite a passarlo tranquillamente. Sì, usiamo il keypad, è scassato ogni volta. Qua una raggiustata gliela potete dare, ma invece niente. Casual Bongos. Ragazzi, ascoltiamoci la canzone Casual Bongos. Ci mancano solo le scimmie e le banane e siamo a posto. Notte 3. Io ancora non ho capito che cacchio si deve fare in questo coso del pad, qua, numerico. C'è qualche cosa da scoprire, perché io premo il pad numerico, ma si sente il ruo, il suono, ma non succede niente. Vabbè. Ok, vediamo se Balura è nello stage. Balura è un po' scombinata. Il tizio l'ha visto? Eh, allora ho ragione io che Foxy è femmina. Cioè, l'avete sentito pure voi che ha detto she is in the stage. Cioè, she is, lei è. Quindi è femmina Foxy. Allora avevo ragione io che Foxy è femmina. Andiamo da Foxy. Bellissimo. Ora qua mi ammazza. Allora, praticamente dobbiamo avanzare piano piano e ogni tanto flasciamo e cerchiamo, vediamo quantomeno se Foxy è vicino a noi. E già l'ho vista. Ok, sta andando. Foxy, vattene Foxy. Aiuto. È qui. Vattene Foxy. Ferma Foxy. Non ho fatto niente. Foxy, vattene. Quanto sei brutta, Foxy. Ma quanto? Questa mi fa lo jumpscare. Basta. Vai, vai. Via. Aiuto. Foxy, ti prego. Fammi raggiungere quella stanza, Foxy. Che dopo ti do una calamella. Forza. Forza. Ti sei fossilizzata qua, Foxy. Vai, vai, vai. E qua sento rumori. Foxy, no. Foxy, vattene. Foxy, di nuovo, vattene. Ancora. Basta, Foxy. Foxy, c'è rotto, Foxy. Te devi andare. Ammi. Fammi raggiungere sta cacchio di stanza. Aiuto. Dai, che siamo... No, ma veramente. Cioè, ora capite? Cioè, lo jumpscare di... Uno jumpscare di questo gioco? Veramente. Ve lo sognate la notte? Cioè, vi fate gli incubi? Veramente, però. Ok, siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Chi è? Ah, di uno robot. Sì, Grinchab, il cacchio, Grinchab. Che calino. Eh? Vabbè. La destra di Freddy, questo. Fatto. Ok. Guancia sinistra. Fatto. Occhio destro. Qua. Fatto. Nel naso. Qua, questo. Perché? È bello che l'ho fatto già, questo coso. Perché mi devo prendere gli spaventi? Eh, ma l'ho fatto, tizio. Bello, eh. Eh, quindi. Eh, quindi. No, aspetta. Si è bloccato. Fammi capire. Si è bloccato. Eh, dopo tre ore, tizio. Andate a prendere un caffè e andate a fare la pipì. Nel scherzo. Non t'ho sentito, ti stavo insultando. Non puoi ripetere. Lo sto togliendo. No, non mi fa il jumpscare. Fatto. Dal bunny pannet. Dal puppet. Qua quello se ne va, la vado a trovare. Ok, doveva mandarci piano piano. Ma quei controlli sono brutti. Come ci vado piano piano io, però? Qua, 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 qua. Sì, ma come faccio? Dov'è? Dov'è il puzzato? Qua, preso, preso. Preso. Fantastico, l'ho preso. Veramente, ho finito. Già ho finito. Go back, go back. Di nuovo da Foxy, no. Ti prego. No. No, Foxy mi ammazza. Ecco, ma ballura che non c'è. Forse non c'è. Forse non c'è. Ti prego, non c'è essere. Ma baffanculo, va. Ma dai. Ma avevo finito la notte. Chi è? Ragazzi, praticamente, e ora mi sto ricordando, deve andare così. Praticamente mi cattura Foxy, adesso sono dentro questo animatronico, credo. E siamo alla notte 4, quindi neanche il tempo di andare a casa che mi fanno cominciare dalla notte 4. Quindi, mi raccomando. Come al solito, lasciate un bel like se volete che continui Five Nights Sister Location. Vi ricordate che potete seguirmi anche su Facebook, Twitter, Instagram e tutti gli altri soci di cui trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale. E poi c'è tutto. Al prossimo video. E oggi torniamo su Minecraft Pocket Edition. Mi porta praticamente in una miniera abbastanza interessante da esplorare. Quindi oggi ci andremo ad esplorare quella bellissima miniera.